Ciao a tutti bentornati sul mio canale, oggi voglio mostrarvi l'agenda che ho creato per Miriam Creazioni lei è una ragazza che ha un canale youtube che si chiama appunto Miriam Creazioni nell'info box magari vi lascio il link al suo canale lei crea un porta candele e fa dei gioielli, dei bijoux con la tecnica del wire vi mostro in dettaglio quello che ho fatto, diciamo che lei mi ha dato un po' le dritte sulle cose che le piacevano e poi ha lasciato libera scelta a me nella creazione dell'agenda a me piace tantissimo e spero tanto che anche lei piaccia questa è l'agenda che ho fatto per Miriam Creazioni che appunto me l'ha richiesta, lei mi ha dato soltanto delle indicazioni mi ha detto che le piacciono le righe, le piace il colore viola, i girasoli e mi ha detto di fare un po' io insomma quindi ho deciso di utilizzare questo cartoncino un po' a righe sui toni del viola il bottoncino glielo ho messo appunto viola e all'interno allora qui c'è la solita taschina dove ho già inserito gli stickers con i numeri dei giorni sono quattro foglietti con tre mesi ciascuno quindi sono abbastanza per tutto l'anno e sulla taschina poi le ho creato le solite tre taschine piccoline nelle quali ho già inserito due clip che ho creato queste con il girasole le clip sulla clip oro fronte e retro plastificate e gli ho aggiunto anche dei particolari in glitter non so se si vedono usando appunto le colle glitter questa, quest'altra anche qui fronte e retro e qua nella terza taschina ho messo un cartoncino uguale alla copertina fatto a fraccina dove può scrivere qualcosina poi c'è la barra ad anelli a sei anelli che si apre sempre col solito meccanismo quindi si schiaccia e si chiude il segnapagina con il righello incorporato anche qua ho utilizzato il cartoncino come quello della copertina con l'aggiunta di qualche glitter così si vedono meglio poi inizia l'agenda quindi abbiamo il primo divisorio fatto come le taschine interne abbiamo la vista mensile dove ci sono i 12 mesi sempre sulla tabella quindi ci sono i riquadri dal lunedì al giovedì dal venerdì alla domenica con lo spazio per le note qui bisogna scrivere il mese e l'anno quindi ce ne sono dentro 12 12 mesi finito il mensile abbiamo quest'altro divisorio e da qua inizia il settimanale anche qui ogni settimana ogni mese parte appunto con la scritta del mese e su ogni mese c'è il tab il tab col mese ecco vedete qua gennaio e anche sul retro si vede e idem tutti gli altri mesi quindi abbiamo gennaio anche qua non ho messo i numeri non li numero perché io i refill non li faccio numerati perché sennò ci metterei una vita quindi poi ci si attacca i bollini che ho creato con i giorni ho creato appunto comunque per ogni mese 5 settimane tranne alcuni mesi che cadono magari iniziano di domenica per cui sono 6 settimane quindi per i mesi di 6 settimane del 2018 ho fatto 6 settimane abbiamo febbraio faccio marzo e via dicendo tutto l'anno facile andare a reperire i mesi appunto perché grazie ai tab ci si può spostare lungo i mesi finito anche la settimanale ho messo un altro divisorio ho messo una pagina di vellum con i girasoli e poi ho messo dei fogli bianchi infine quarto divisorio anche qui fogli bianchi in fondo abbiamo la solita tascona dove ci si può aggiungere qualcosina e il pen loop con la penna sempre con con gli svaroschini sui toni del viola e qui c'è il gommino che si può utilizzare per il tablet e per il cellulare anche qui la penna la mettiamo in questo modo di modo che rimanga comunque fuori dall'agenda e non dia fastidio alla chiusura e niente poi c'è il retro qua la barra d'anelli ha i due questi bottoncini diciamo quindi anche esteticamente carino da vedere e niente spero tanto che questa agenda sia di gradimento di Miriam perché appunto lei mi ha lasciato mi ha lasciato proprio il campo libero per creargliela a me piace tantissimo sono soddisfatta anche di questa agenda e niente ci vediamo un prossimo video spero tanto che vi sia piaciuto ovviamente se è così mettete un bel pollice in su e al prossimo video ciao ciao Grazie a tutti.